Gli spazi verdi, i giardini, i marciapiedi e i vialetti della città sono spesso invasi dall'erbaccia di ogni tipo, che crescono disordinatamente e li rendono per nulla decorosi e piacevoli da vedere a livello estetico. Per cui si rende necessaria una capillare pulizia attraverso dei prodotti in grado di far seccare gli infestanti e magari di non lasciarli nuovamente nascere per un po' di tempo. Ma il consigliere comunale di opposizione Roberto Ceratto dei Moderati veterinario pone all'amministrazione comunale del sindaco Borgna alla guida della città un problema non di poco conto. Nei paesi civili, dice, si cerca di limitare al massimo l'utilizzo di sostanze pesticide, fitofarmaci o diserbanti, preferendo l'impiego in zone ad alta densità abitativa di metodi alternativi con minore o nessun danno per gli esseri viventi. Cuneo, invece, secondo Ceratto, si distingue per l'abuso dei diserbanti nella gestione del verde pubblico. usando in abbondanza sostanze tossiche capaci di distruggere le erbe infestanti. Tutto ciò senza valutare le conseguenze sulle persone e sugli animali domestici, in particolare su questi ultimi che, non indossando calzature, assumono il valeno per contatto con la pelle, lo respirano e leccandosi lo ingiariscono. Per conoscere gli effetti collaterali, prosegue Ceratto, basta leggere le precauzioni per l'uso delle stesse sostanze, non le pubblicità e le etichette e visionare le pubblicazioni universitarie e degli istituti di ricerca. L'esponente di minoranza, poi, attacca l'amministrazione Borgna. Se vi sembra che le minacce di aborto, le malformazioni fetali, il morbo di Parkinson, i tumori dovuti alla lunga esposizione verso questi prodotti, che insorgono anche dopo molti anni, non significano nulla, se, come giunta, volete anteporre la salute dei cittadini e dei nostri animali domestici, il maggiore vantaggio economico dovuto all'uso del disarbo chimico, abbiate il coraggio di dirlo apertamente e di assumervi le responsabilità future della vostra scelta. Quindi, la mala conclusione, io oggi, grazie ai disarbanti in città, guadagno un po' di più dal mio lavoro di veterinario. Preferirai, però, rinunciare a quell'utile e non dover curare patologie indotte dai disinfestanti. Ceratto, attraverso un'interparlanza che sarà discussa nell'Assemblea Municipale della prossima settimana, chiede alla maggioranza borgna notizie precise sulla quantità di disarbanti sparsi sul suolo pubblico del Comune nelle ultime stagioni, il loro costo e le modalità di somministrazione. Inoltre, suggerisce alcuni metodi alternativi, forse più costosi, ma di sicuro meno pericolosi per la salute.